Ecco, qui concludo, direi perfettamente nei tempi, sono dei dieci, una cosa che ha di grandissimo valore perché io vi ho fatto vedere i nomi degli economisti, ho fatto vedere brevemente il prestigio, la loro storia, ma ci sono testimonianze in più rispetto a quello che io porto alle mie platee. Gli avessimo ascoltati, guardate questo studio, cioè per me è veramente, tutte le volte che lo presento mi viene da ridere, ovviamente in una situazione così drammatica si perde un attimo di tensione, ma mi viene da ridere perché voglio dire, questo qui è uno studio prodotto, il proposito di questo studio è di osservare come gli economisti americani, quelli con il sistema della Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, economisti della banca centrale americana e delle università americane, hanno monitorato l'unificazione monetaria europea, dalla pubblicazione del piano dell'or, del rapporto dell'or, che fu quello, diciamo, il rapporto che lanciò l'idea dell'unificazione europea dell'euro, eccetera, fino all'introduzione dell'euro nel gennaio 2002. Questi studiosi americani della Federal Reserve e delle università americane hanno prodotto nel 2002, quindi all'entrata in gioco dell'euro, il seguente giudizio, l'euro non può succedere, è una brutta idea, non dura. E ovviamente va detto che a questo livello di autorevolezza, cioè non è l'Università di Pescara, con tutto il rispetto, no? Cioè qui siamo a livello di massima autorevolezza internazionale. Questi rapporti sono regolarmente letti dai tecnici, tecnocrati dei ministeri italiani, dai ministri italiani, dai politici, che poi non li leggono, ma vengono regolarmente inviati. Quindi chi avesse voluto l'avrebbe potuto leggere benissimo. Un'altra testimonianza è del famoso economista che vi citavo prima, Wynne Godley, il professore merito di economia all'Università di Oxford, che nel 1997, in un'intervista all'Observer, giornale inglese, diceva, questa è l'inglese, questa è l'italiano, le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'Unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla Banca Centrale, dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. I governi dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Allora, questo rischia di essere troppo costoso per loro, persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono, infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. 1997, più di dieci anni dopo è successo, e questo è Paul Krugman, premio Nobel dell'economia, scrive su New York Times in un'intervista alla CNBC, ha dichiarato, e questo riguarda noi, quello che è successo è che adottando l'euro, l'Italia si è ridotta allo stato delle nazioni del terzo mondo, che devono prendere in prestito una moneta straniera, una moneta straniera, questa era la lira, era dello Stato italiano, noi siamo qua, l'euro è della BCE, è di un'entità estranea ed esterna all'Italia, quindi deve prendere in prestito una moneta straniera con tutta la perdita di flessibilità che ciò implica, in particolare poiché le nazioni dell'euro non possono emettere la loro moneta neppure in emergenze, come oggi, soffrono disfunzioni che le nazioni che hanno una moneta sovrana non soffrono, e se ne vedono oggi i risultati, infatti l'America che ha una moneta propria, non ha questo tipo di problemi, l'America oggi, con tutti i guai finanziari che può avere, ha un'inflazione bassissima, tassi di interesse, soprattutto quello che conta, sono i tassi di interesse sui titoli di Stato che sono quasi allo 0%, in alcuni casi allo 0%, in alcuni casi all'1%, in alcuni casi all'1%, in alcuni casi 1,4%, eccetera, e non è un paese, non è nei pigs, non è... E questo, non so se si vede, è un cartello che è stato fotografato da una ragazza a Roma, fuori da un'attività commerciale, dove c'è scritto Chiudiamo per sempre il 31 luglio, ho visto uomini con la terza elementare mettere su un'azienda e dar lavoro a decine di persone, poi ho visto professori con tre lauree in tasca far chiudere migliaia di aziende affamando milioni di persone, l'intelligenza non si studia. Grazie.